Questa è la Galleria Nazionale Giorgiana. Questo è un quadro palomino di uno stile. Non due anni cedebriamo. Grazie per il pese. Che hanno avuto tanto successo in quegli anni. Lui era stato il primo creatore dei primi stereofilms. e qui vediamo invece un artista assolutamente europeo da qui comincia Lado Budiashvili e lui rappresenta molto scede della vita dell'inizio del novecento di qui lì si sopra la passata è una squadra piccola ma guerrita è bello che lei possa cominciare da qui dalla bellezza della cultura che ci unisce in un museo che mostra i tesori dei due paesi e dal saluto al personale non perché noi ci consideriamo tesori ma comunque queste persone mettono impegno e dedizione tutti i giorni anche oltre le nostre forze per tenere alto la bandiera dell'Italia e siamo molto contenti di venire gli onorati dell'inizio grazie 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 io sono èissimo di incontrarti l'ambientazione particolare ma è in fondo ispiramento una bella ispirazione le relazioni tra paesi e amici hanno un chiedi creativo quindi di artistico perché la scelta di questa location è indovinata e sono contento di iniziare a vista incontrando il personale della passata perché le vinte di stato cominciano normalmente ascoltando l'ambasciatore nel paese amico nel paese che si direte ok per tornare a quelli che lo aiutano è una all'inizio un'arricchiscia completa questa ispirazione iniziale e sono intitolati anche per ringraziarvi la parola che fa la decisione da Giorgio Italia è molto grande noi contiamo che aumenti che cresca sempre di più apprezziamo molto quanto questo paese sta facendo e il suo rapporto con con tutta l'Europa con l'interranea ci sentiamo coinvolti in queste prospettive è solitissimo di fare questa visione con i suoi agli esteri in scoprima di insieme con i suoi agli esteri o per sottolineare l'importanza di questo rapporto che abbiamo ci sono due coincidenze in questa vista il fatto che sia la prima il capo di Stato italiano a Giorgio indipendente che sia il centenario dell'indipendenza della Giorgio e sono due cose che arricchiscono ulteriormente il significato della vista che ha come sostanza quello di ribadire ad amicizia la collaborazione e di promuovere le sviluppazioni grazie a quello che ha fatto le varie i vari profili della rappresentanza del nostro paese quello di promaglio quello consolare quello commerciale quello militare quello turistico sono tutti elementi che il concerto di collaborazione e di questo vi ringrazio buon lavoro grazie a tutti 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 grazie a tutti